Ok, buongiorno, siamo qui a mettere sotto torchio un vecchissimo e gloriosissimo Galaxy 2, nella versione con due finali più prefinale, questo è originalissimo al momento, sembra quasi neanche mai toccato, soltanto modulazione aperta all'interno dalla MC, il resto è tutto originalissimo, adesso procederemo nel prossimo passaggio a dargli un po' di birra. Grazie per lo!